Sono Gianluca Dettori, presidente e partner di Primo Ventures, una società di gestione del risparmio che è specializzata negli investimenti in società tecnologiche e società high tech italiane. Noi operiamo oggi in due ambiti, abbiamo circa 200 milioni di masse in gestione che vengono investite nel settore cosiddetto early stage, cioè nelle prime fasi di sviluppo di una startup tecnologica, in due campi distinti. Operiamo in campo spaziale e operiamo nel settore digitale. Investiamo in campo spaziale un po' su tutta la linea, dalle infrastrutture che vanno nello spazio fino alle applicazioni terrestre che si basano su queste stesse infrastrutture. È importante ricordare che quello che sta succedendo oggi, che grazie alla incrementata maniera drammatica accessibilità dello spazio, oggi abbiamo in fase di costruzione e di sviluppo moltissime nuove infrastrutture e molte di queste sono dedicate all'osservazione della Terra e quindi a estrarre informazioni e dati che possono essere utili alle persone o alle imprese, per esempio in merito al cambiamento climatico. Per esempio tra le società in cui abbiamo investito nel campo spaziale c'è una startup di nome Eolian che è in grado di calcolare il rischio climatico di un determinato business, di una determinata società. Nel settore digitale storicamente investiamo nel FinTech, in particolare per esempio nel fondo precedente e ancora tuttora in portafoglio è una società quotata che è Yolo. Continuiamo a vedere una notevole innovazione nel settore finanziario, un settore molto grande in cui i clienti, siano essi privati cittadini, individui o anche aziende, hanno crescenti esigenze aspettative rispetto all'esperienza digitale dei prodotti e dei servizi che utilizzano e a questo unito a tutta una serie di nuove tecnologie e nuove approcci di business al mercato stanno effettivamente continuando a generare notevole innovazione in questo ambito. Continueremo quindi a investire in queste società, noi prevalentemente operiamo appunto oltre che nel FinTech anche nel campo del software, nel campo della cyber security, anch'esso un mondo sempre di più connesso col mondo dell'insurance, un recente investimento per esempio è una società di nome MuseScope che è in grado fondamentalmente di analizzare il perimetro digitale di un'azienda e fornire un parametro, un ratio di rischio cyber per quella specifica azienda, identificando in maniera totalmente automatica tutti i rischi o i buchi che ci sono nei sistemi di sicurezza in determinate aziende. E quindi siamo felici di essere qui al forum a parlare di InsureTech, un settore che continua a essere estremamente promettente e che nei prossimi anni sicuramente determinerà la nascita di nuove aziende e nuovi servizi a disposizione degli utenti finali.